Mi chiamo Marco Pozzi, sono direttore vendita di Avantgar Pharma. Avantgar Pharma è un'azienda che fa parte del gruppo Sigma Tau ed è un'azienda fortemente presente in due ambiti terapeutici che sono la dermatologia e la ginecologia. In particolare per quanto riguarda la ginecologia abbiamo un listino molto ricco perché a partire da alcuni farmaci come l'elazor, che è un notissimo fluconazor, un notissimo antimicotico, per arrivare poi ad alcuni prodotti nutraceutici molto utili in diverse fasi della vita della donna come il Gravida Plus durante la gravidanza, lo Zemiar nella perimenopausa e il Lafergin che è un supplementatore di ferro. Quindi siamo fortemente presenti e cerchiamo di esserlo sempre di più diversificando sempre al meglio il nostro listino.